Le care montagne che parlano di Dio, un progetto religioso ma anche naturalistico avviato alcuni anni fa da Carmelo Nicoloso che è l'organizzatore, tra gli organizzatori di questo evento che sarà riproposto domenica 13 maggio a Piano Vettore. Esattamente di cosa si tratta? Proprio detto naturalistico spirituale, è un percorso dedicato al Papa Montanaro che con il nostro testimonial Tom Perry, proprio dall'Etna ai Monti Tatra, abbiamo cercato di coniucare questo grande amore che Giovanni Paolo II aveva nei confronti della montagna e è una celebrazione in ricordo di un attentato, quello dell'81, proprio in occasione della ricorrenza della festa di Fatima. Qual è il programma di giorno 13 a Piano Vettore? Il programma prima al mattino un cammino con i frati francescani che verranno da Sisi, proprio l'anno scorso l'abbiamo indirizzato alle scuole. È un cammino meditativo sul creato che rientra anche nelle vie sacre di Sicilia, quindi questo cammino sempre con un taglio naturalistico, coniugando non solo l'ecologia del creato di Giovanni Paolo II, ma anche un po' gli insegnamenti e ciò che Francesco Desti si ci ha lasciato. Un evento dedicato alla Madonna di Fatima? Sono cento anni dall'apparizione, quest'anno si celebrano i cento anni e il Papa Francesco andrà proprio a Fatima e sull'Etna quest'anno a celebrare la Santa Messa verrà proprio il Cardinale Paolo Romeo, che è stato anche arcivescovo a Palermo, attualmente arcivescovo emerito. E ritorna Tom Perry, l'alpinista a piedi scalzi che quest'anno festeggia e celebra i suoi dieci anni di attività escursionistica sull'Etna. Chi può partecipare a questo evento a Piano Vettore, domenica giorno 13, da che ora? Allora, intanto possono partecipare tutti quelli che ovviamente hanno la voglia di mettersi in cammino, non un'escursione classica, un cammino un po' che cerca di tirare fuori le nostre radici spirituali, il nostro rapporto di lava e fede col vulcano, ma aperto a tutti. Si inizierà proprio alle 8.30 e attraverseremo quei luoghi che hanno dato vita al primo sentiero natura del Parco dell'Etna e quell'altro grande scrigno naturalistica che è il Giardino Botanico Nuova Gussonea. Grazie a tutti.